La, 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 la. Stiamo parlando di miliardi di metri cubi d'acqua. Su questi bacini non è mai stata fatta manutenzione. Oh, che vergogna! Ed è qui che sta il problema. Eh, niente, va così. Alcuni sono proprio allergici alle regole. Gli viene l'orticaria. La dirigenza caccia pinola mascotte. Ma Ivan aveva solo buone intenzioni. Spende, facciamo entrare il vino allo storico. Potrebbe fare la differenza. Le Iene. Martedì, in prima serata, su Italia 1.